Il sindaco Francesca Valenti e l'assessore al patrimonio Gioacchino Settecasi sono andati questa mattina da Grigento, su richiesta della Curia che è pronta a riconsegnare nel prossimo mese di giugno il complesso monumentale della Bediagranda San Michele. Un bene di proprietà del comune di Sciacca che in virtù di una vecchia convenzione è stato gestito negli anni dalle suore, dalle figlie della Misericordia e della Croce che, peraltro, da una ventina di anni avevano anche avviato un asilo nido all'interno della struttura. Adesso le suore non sono più in grado di continuare questa attività. Ne sono rimaste solo due e già qualche mese dietro la responsabile aveva comunicato tale decisione al sindaco di Sciacca Francesca Valenti. L'annunciata chiusura dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia ha sorpreso e amareggiato per prima le tante famiglie seccenzi che avevano scelto il sito, ma adesso si prospetta addirittura la chiusura del convento e il trasferimento del bene nuovamente al comune di Sciacca. Di questo si è parlato questa mattina alla Curia di Grigento, anche se si stanno facendo dei tentativi per evitare la chiusura dello storico bene monumentale e dell'attività di assistenza ai bambini, magari con un ridimensionamento del numero degli iscritti e delle classi di materna. Tra l'altro è di questi ultimi giorni l'iniziativa di una raccolta di firme nel quartiere di San Michele per evitare che l'elussuore lasci nel convento e che il complesso della Beria Grande venga chiuso. Stiamo lavorando per scongiurare questo. Si è limitato a dichiarare l'assessore al patrimonio Gioacchino Settecasi al termine della riunione alla Curia di Grigento. Da qui a giugno si tenteranno soluzioni che possano continuare a garantire la presenza in città delle figlie della Misericordia e della Croce e al tempo stesso la gestione del convento della Beria Grande.